Si è aperta con i saluti del Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus la 32esima Assemblea annuale del Lanci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che si è svolta a Torino dal 28 al 30 ottobre. L'Assemblea legislativa ha partecipato all'appuntamento con un proprio stand istituzionale di informazione sull'ENT e le sue attività.